Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Shining, gioco della Prospero Hall in edizione italiana della Asmo dell'Italia che ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Grazie ragazzi, è sempre un grandissimo onore collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Ovviamente ispirato al capolavoro cinematografico e anche al romanzo, bellissimo, è ambientato nell'Overlook Hotel. E Shining è un gioco da età 17 in su, secondo me forse per il tema trattato, ma si può abbassare l'età anche di qualche anno, 3-4 anni tranquillamente. 3-5 giocatori durata, dai, la scatola riporta dai 45-60 minuti, sì, perché effettivamente forse più una cinquantina, perché è un gioco molto molto veloce. E ci vede come nuovi guardiani, non segue il filone del film, voi siete un gruppo di nuovi guardiani, chiamati appunto dentro all'Overlook Hotel e questo gioco è molto bellino perché dovete sopravvivere all'inverno, come avete visto nel film, senza impazzire e senza morire, perché ci sono i punti sanità mentale e i punti ferita, arrivare a fine dell'inverno nessuno di voi deve morire perché se anche un solo guardiano muore la partita è persa e si può giocare in due varianti, cooperativa, come vi ho detto ora, o se no competitiva, dove si gioca con delle carte ruolo e una delle carte ruolo è uno di quelli tipo Jack Torrents, per farvi capire, impazzito, che invece giocherà nascosto per non farsi scoprire ma per ammazzare gli altri giocatori. È un gioco veloce, alla fin fine è un po' piccolino, non è un filler, però diciamo che è un gioco che si incastra bene e ci si fa a serata molto 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 tranquillamente. Ricorda un po' anche una specie di piccolo e veloce bitrial at the house on the hill, insomma è molto molto veloce come tipo di gioco. Vi faccio vedere un po' che non me funziona, ma prima unboxing. La confezione del gioco, lo vedete, il classico disegno col tappeto in terra, col tartan, come li chiamo io. Danny, il figlio di Jack Torrents, che gioca in terra con i giocattoli dell'Overlook Hotel, è veramente bella come scatola. E poi ve l'ho detto, è una confezione non tanto grande ma anche perché non è strapieno di contenuti. Apriamo. Vi ricordate quello che scriveva Jack Torrents quando è impazzito di continuo la solita frase ripetuta che la sua moglie gli fa? Ma quanto è scritto, quanta roba, quante pagine? Invece non ha scritto niente, ha scritto sempre la stessa cosa per tipo 100-200 pagine, è spettacolare. Regolamento ovviamente, il gioco è tutto tradotto in italiano, è veramente semplicissimo. Sono poche pagine che vi spiegano cosa fare, anche perché ve l'ho detto, le regole del gioco sono veramente poche. Poi abbiamo tutti i token che sono token punti ferita, token sanità mentale, token whiskey ad esempio, che si può utilizzare. Token armi, equipaggiamento, c'è tipo una mazza da baseball, c'è tipo un pugnale, c'è tipo l'accetta, quella che Jack Torrents piazza nel centro della schiena di Mr. Allonan. La mappa di gioco, che ora vi faccio vedere il tabellone aperto, comunque è molto molto semplice, bellino, comunque evocativo. E' fatto bene, anche i disegni mi piacciono. E poi le carte, che questo era l'uomo orso che fa qualcosa di strano nel film, non ve lo dico perché sennò mi chiudono il canale. Comunque se ve lo ricordate, insomma, questa scena qui. E ci sono i mazzi delle carte, evento è quello che vi dicevo appunto a poc'anzi. Poi qua giù abbiamo, bellissimo, il porta chiavi, questo me lo voglio attaccare le chiavi per davvero perché è evocativo da morire, che è il token del primo giocatore del turno, che è la stanza 237. Non bisogna mai entrarci all'interno. Poi abbiamo il dado ascensore, perché l'ascensore è sempre infestato da queste presenze che cercano la vostra luccicanza. E quindi quando entrate dentro l'ascensore dovete tirare il dado per vedere se succede qualcosa. E poi, niente, tutto il resto è nel meeple. Vi faccio vedere un po' come funziona. La luccicanza, Mr. Alloran, capolavoro cinematografico assurdo, Shining, ha suscitato molto la fantasia di tanti di noi, perché poi alla fin fine è proprio l'idea della solitudine che ti fa impazzire. Perché sì, Jack Torrance era lì con la sua famiglia, sua moglie, suo figlio, però c'è l'idea di essere in un hotel così, non in una stanza alla fin fine, in una casetta di 50 metri quadri. In un hotel immenso chiuso, a stare lì, a fare da guardiano per mesi, 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 a non fare niente. Semplicemente a vedere che la caldaia si avviasse a fare manutenzione e che magari una finestra non si rompesse per far entrare un po' di neve buttata dentro dalla bufera. Quindi proprio c'è l'idea di romperti le scatole, per non dire altre cose. Ed è veramente bello. Il regolamento, ragazzi, del gioco, io non faccio più tutorial, vi do una visione, intanto poi vi monto un po' di immagini. Quindi è veramente veloce perché abbiamo la mappa dell'Overlook Hotel che è divisa in vari piani. In questi piani ci si sposta da un piano all'altro o con le scale o ci si sposta direttamente con l'ascensore. Regola del gioco vuole che ci si può spostare di un movimento da una stanza a una adiacente, anche salendo le scale o anche collegata dall'ascensore che fa adiacenza, senza sprecare sanità mentale. Più lontano ci si sposta, ci si può spostare anche di cinque stanze, quattro stanze in un turno, però per ogni stanza, oltre a quella adiacente dove siete, consumate un punto sanità mentale. Punte sanità mentale che a un certo punto vi porteranno verso ovviamente la follia. E arrivare alla follia vuol dire o iniziare a subire punti ferita quando la riserva della sanità mentale finisce, o subire oppure fare impazzire il personaggio e perdere il controllo. Ovviamente i punti ferita si perdono anche in altre maniere perché ci sono delle presenze, dei fantasmi, l'avete visto, attirati appunto dalla vostra luccicanza dentro all'Overlook Hotel che faranno di tutto per uccidervi. E c'è una fase di turno in cui il capo turno, il primo giocatore, quello che tiene la chiave della famosa stanza se vi ricordate, 237, e all'inizio del turno girerà sempre una carta evento e questa carta evento dirà che cosa succede. Regola del gioco vuole che voi dovete giocare tot turni aspettando il disgello per la possibilità poi dopo di prendere il gatto delle nevi o qualcosa e andare via, sopravvivendo. Perché nella modalità competitiva dovete sopravvivere tutti ma un giocatore vi rema contro. Nella modalità cooperativa siete tutti quanti insieme ma il primo che muore è finita la partita, come vi dicevo durante la presentazione. E la regola praticamente è questa qui, per ogni turno ti devi spostare di una stanza, non può rimanere nella stessa, di una o di cinque, scegli te. Però di ogni stanza che ti muovi oltre a quella decente perdi un punto sanità mentale e oltre a giocare la carta evento, carta evento che potrebbe bloccare una stanza dove non ci si può muovere e un evento che prende tutto quanto il turno e il round, scusate, di gioco, perché il gioco è diviso in mesi e ogni mese è diviso in turni e ogni turno è diviso in round. Round del giocatore A, round del giocatore B, C e poi si passa al turno 2 e così via fino ad andare al mese successivo. E dovete fare sempre l'azione della stanza, quindi quando vi spostate da una stanza all'altra dovete sempre fare l'azione della stanza dove siete finiti. Insomma ragazzi, un gioco veramente molto veloce e veramente alla portata di tutti. Questo Shining ragazzi è un gioco per tutti, però come vi ho detto anticipatamente è un po' un fillerino perché a parte anche il costo molto contenuto è un gioco decisamente piccolo, alla fin fine trasportabile, non ha diciamo sfondato come avrebbe potuto. Secondo me è un gioco uscito un po' a metà, detto onestamente perché da un capolavoro del genere mi sarei aspettato qualche meccanica non più complessa. Ragazzi, il mio gioco preferito sono qua dietro, Hero Quest e Star Quest, cioè tiri D6, finito, non c'è da fare nient'altro. E un dado con dei simboli sopra, quindi per me vanno bene i regolamenti veloci, però da un gioco del genere forse mi sarei aspettato più una componente mistero, più una componente Ugo Sder o la cosa, cioè che c'è qualcuno di nascosto che veramente tiriamo a contro, cioè effettivamente, però aspetta solo di piantarti una cetta come Jack Torrens a Mr. Alloran nella schiena, cioè non è che c'è chissà quant'altro. Avrei fatto anche più una meccanica forse anche survival in cui dovevi anche un T-Dica andate a cacciare cibo e tutto quanto perché le riserve nell'overlook. Potevi mangiare come un maiale tutti i giorni e ci avresti avuto roba per vent'anni. Però più survival magari di nascondersi, di cercare di sopravvivere, di cercare una via di sotterfugio. invece più diretto, muoviti nella stanza, guarda cosa succede, insomma, poteva uscire meglio, ecco, mettiamola così. Non è il capolavoro che avrebbe potuto essere, però tranquillamente non ha nessun tipo di problema e anzi è molto, molto divertente come tipo di gioco. Secondo me è promosso, le componenti non sono delle migliori, è abbastanza roba tranquilla, insomma, non a livelli qualitativi altissimi, ci sono dei meepo dentro, token di cartone, anche la mappa si rischia a volte ed aprirla un po' troppo e di strapparla, quindi stateci attenti, però è un gioco anche dal costo contenuto e se siete, se non siete fan di Shining, secondo me è un bel fillerino. Da giocarlo una sera ogni tanto così fa una bella partita, un po' mi ricorda Last Friday, per farvi capire. Quel classico gioco che, anche chi non è fanatico di Crystal Lake, ce lo butti volentieri nel mezzo, che è fanatico di Shining invece sarà evocativo e si divertirà veramente da morire. Quindi, secondo me, promosso a pieni voti, poteva essere meglio onestamente come meccanica, però ci sta e ringrazio ancora una volta Asmod Italia, grazie per avermi fornito questa copia per la recensione. Ricordo, se lo volete acquistare da Borgame Discount, che trovate primo link in descrizione e in sovrimpressione, al miglior prezzo sul mercato e lo potete pagare anche in tre rate, se non lo volete pagare tutto insieme. Se non lo trovate nella lista, contattateli privatamente al supporto e fate presente che arrivate dal canale di Coridan, perché magari, anche se Shining non ce l'hanno, ve lo fanno avere al miglior prezzo sul mercato. Quindi, contattateli, vengo dal canale di Coridan, se potrebbe avere e vi tratteranno con i guanti. Tra l'altro, Borgame Discount sta subendo un cambiamento proprio a livello di sito, di e-commerce, di sito di vendita e di shop, ma anche di community, che poi a breve vi spiegherò, appunto, in un altro video dedicato. E fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, è veramente un gioco molto interessante per i fanatici di Shining. Perfetto. Ciao ragazzi, alla prossima!